Ahahahah Madonna Quanto è stata questa ragazzina Però... Tanto il video gliel'ha fatto No dai Mi basto basta che stai dietro è così No no io l'ho visto attraversato No l'ha... A me m'ha attraversato adesso Si ma dentro la macchina no no devi stare completamente a riparo a riparo se stai completamente dietro al riparo disarmi beh di qua non mi prendono a me mi hanno colpito dietro una jeep un colo di cemento guarda no no lo fanno lo fanno lo fanno ora riprovo ah guarda attraverso il murro un agente della squadra ha bisogno di assistenza hai filmato sto facendo cioè è impossibile fermo viper bravi ma non mi prendi oh ma mi prendi tu guarda attraverso guarda attraverso è morto è impossibile guarda attraverso stai supporto pure ma no va bene abbiamo servito non c'è lo spazio per te anche se ti resti ha bisogno di assistenza che cosa brutta ragazzi ti avevo ammazzato e sparato verso tutto il palazzo se l'hai visto si ero liberato